benvenuti a tutti coloro che ci ascoltano con il favore della pioggia inauguriamo l'ennesimo special del salotto Mono Catari questa volta sarà incentrato sulla trilogia del suicidio artistico di Takeshi Kitano e soprattutto sull'uso dell'arte che il regista ne fa all'interno di questa incredibilmente sottovalutata trilogia il rapporto con l'arte e soprattutto con quello che Kitano definisce suicidio artistico è un rapporto che parte da molto lontano quasi dal 1994 data che precede di due anni o forse di un anno non ricordo bene comunque data che sicuramente precede quello che fu il terribile incidente che poi deturpò per certi versi il viso di Kitano e lo fece rinascere dico 1994 perché coincide in modo preciso con l'uscita al cinema di Gattingheni Gattingheni è un altro di quei film incredibilmente sottovalutati poiché è un film volutamente brutto è un film che per certi versi si colloca in un universo preciso geograficamente proprio all'interno della filmografia di Takeshi Kitano e paradossalmente comincia a mettere le basi per quella che sarà la trilogia del suicidio artistico perché? Perché il 93 è appunto l'anno come è giusto che sia come è logico che sia che precede il 1994 ma il 1993 esce Sonatine Sonatine è il film che sancisce il successo a livello planetario per certi versi di Takeshi Kitano poiché è stato accademicamente accademicamente ipervalutato è andato a Cannes nella sezione Ancertainly ha avuto modo di influire anche sul cinema hollywoodiano Takeshi Kitano essendo avendo un carattere molto particolare nel 1994 decide di suicidarsi appunto per la prima volta artisticamente girando Gattingheni Gattingheni è un'atroce critica al sistema televisivo è diciamo una cozzaia eterogenea di gag proprio come Glory to the Filmmaker forse la seconda parte di Glory to the Filmmaker ed è volutamente brutto quando a Kitano parlano di questo film Gattingheni per certi versi lui tende a non parlarne in modo in modo positivo tende a parlarne in modo sprezzante ma non si capisce perché forse come dice il mercante d'arte in Achille la tartaruga è più grande il mistero più grande l'artista non si sa però fatto sta che Gattingheni è il primo tentativo di suicidio artistico il primo tentativo di suicidio artistico che avviene perché la critica comincia ad apprezzare Kitano cosa che Kitano odia Kitano odia essere apprezzato dalla critica e quindi decide di rispondere agli studiosi decide di rispondere all'accademia decide di rispondere alla fama mondiale con Gattingheni non ci riesce visto che poi l'anno successivo accade per certi versi questi due anni quindi 94 e 95 sono molto importanti all'interno della filmografia di Kitano nel 95 non accade nulla di particolare a livello filmico ma accade un terribile incidente che per certi versi rinasce fa rinascere Kitano diciamo parlare di fase 2 in questo particolare momento storico forse non è il caso però fa sì che però fa sì che Kitano rinasce e con lui rinasce una certa idea di cinema poiché nel 95 quando avviene quel terribile incidente in modo che lo deturpa lo costringe a quasi un anno di terapia di riabilitazione e quant'altro Kitano si dedica all'arte e si dedica alla pittura e il discorso su cui andremo a incentrare lo special di oggi ovvero il rapporto dell'arte che Kitano ha con questa trilogia del suicidio artistico parte proprio da questo incidente perché perché Takeshi Kitano è un regista particolare nel senso che per certi versi incarna proprio l'idea di cinema perché perché il cinema è per certi versi anzi è sicuramente il primo momento in cui l'uomo si rilegge si rivede si rivede non in un'immagine statica ma in un'immagine in movimento come in uno specchio infatti lo specchio al cinema ha un significato particolare perché in qualche maniera il cinema è il nostro specchio c'è sempre stata questa ripetersi di questa figura un po' durante il novecento esattamente e Takeshi Kitano è per certi versi l'emblema del rileggersi visto che per la grandissima per la stragrande maggioranza delle volte sia il regista sia l'attore dei suoi film se non sbaglio lui tu prima hai citato Getting Ghenny che è una che è un film strano ok e che ha che ha credo qualche rapporto soprattutto con Glory to the Filmmaker di questa trilogia tutto sì Getting Ghenny che è una critica al sistema televisivo e lo stesso Kitano è in Giappone era o è ancora una star televisiva sì esatto anzi credo che sia mi azzarderei a dire perché una volta parlando con una studentessa giapponese mi ha detto proprio questo credo che sia molto più conosciuto come star televisiva da loro che come regista sì in Giappone sì assolutamente sì in Giappone sì assolutamente vero verissimo tant'è vero che l'Office Kitano sì tant'è vero che l'Office Kitano questo piccolissimo una piccolissima digressione di gossip l'Office Kitano ha chiuso perché la maggior parte degli introidi venivano appunto dai suoi lavori televisivi e non dai suoi lavori cinematografici quindi questo è uno dei tanti motivi che ha portato l'Office Kitano a chiudere ah vedi dicevo che dicevo che Kitano comunque ha un rapporto col cinema abbastanza particolare ma un rapporto anche con l'arte poiché il suo cinema e la sua arte sono molto corporali molto legati con l'autodistruzione e non è un caso che nella trilogia del suicidio artistico quindi in Takeshi Sing Glory to the Filmmaker ma soprattutto in Achille e la Tartaruga l'idea dell'arte sia quasi sempre legata all'idea di una morte corporale o a un'autodistruzione o a una deturpazione corporale perché per certi versi il suo rapporto con l'arte nasce proprio in quella camera d'ospedale in quel letto d'ospedale quando lui stava affrontando un percorso di riabilitazione dopo un incidente che lo ha deturpato e forse ha fatto sì che il suo viso fosse più riconoscibile addirittura alcune critiche italiane tra il quale Irene Bignardi se non sbaglio sulle pagine di Repubblica ma anche Alberto Pezzotta sulle pagine dei film critica paragonò il volto di Takeshi Chitano il suo modo di fumare i suoi tic ad Humphrey Bogart addirittura tanto è vero che lo stesso Chitano ne parla in Takeshi vorrei dire una cosa attaccandomi al discorso che hai fatto tu in realtà una delle prime cose che si notano nella trilogia del suicidio artistico è proprio l'ossessione autorrappresentativa di Chitano cioè è vero questa cosa che l'arte per lui ha qualcosa di corporeo ok e ha qualcosa a che fare con il suo corpo la sua immagine iconica che viene quasi moltiplicata in questi film perché nel primo che è Takeshi c'è il doppelganger come si dice io il tedesco lo pronuncio male però c'è il doppio Chitano e il suo doppio ok il suo doppio sfigato il bit Takeshi per certi versi il bit Takeshi e il Takeshi Chitano esatto invece in Glory to the Filmmaker c'è lui e il pupazzo ma poi io direi anche c'è la sua immagine in ogni segmento del film fittizio che cambia e rimane sempre identica a se stessa in Achille la tartaruga che è un film molto più lineare ci sono le tre fasi della vita del protagonista e lì semmai io direi che il rapporto con la morte e con il suicidio è rappresentato da tutti i personaggi intorno perché praticamente tutti muoiono suicidando sì non si sa come muore la figlia però insomma gli altri sicuramente si suicidano e in quel caso è interessante perché invece in Glory to the Filmmaker la morte è quella totale perché c'è la distruzione del mondo alla fine praticamente a Recom Meteorite no? In Takeshi che è il film più è il film più particolare ok dei tre secondo me su otto e mezzo per certi versi eh sì esatto esatto è meno presente magari il rapporto con la morte però però neanche tanto adesso che ci rifletto in effetti ci sono ci sono varie varie scene che possono esemplificare questa cosa però lì c'è una riflessione che riguarda più lui come persona ok lui come icona mentre in Glory to the Filmmaker è lui come autore come regista Achille la tartaruga è proprio invece l'io artistico di Chitano è l'arte pura è la storia di un pittore non c'entra niente col cinema anche se in realtà la mia idea è che ci siano c'è qualcosa che mi ricorda il cinema perché quando il il protagonista che è interpretato la Chitano si sposa con questa donna che lo asseconda in tutto a livello artistico ci sono intere scene in cui lui fa proprio il regista cioè dice a lei quello che deve fare lei deve camminare deve correre con la bicicletta sui quadri deve lanciare palline di vernice per fare un dipinto astratto e quindi fa il regista in un certo senso e poi c'è anche tutta la parte in cui fondamentalmente come adesso cito Pasolini abbiamo fatto lo special su Pasolini di recente che l'idea dell'arte di Chitano è un po' quella che aveva della poesia e dell'arte di Pasolini cioè gettare il proprio corpo nella lotta è un'idea proprio totalmente corporea concreta in cui lui si butta come persona fisica all'interno dei film all'interno della sua produzione e in Achille la tartaruga mi viene in mente tutto il pezzo in cui il gallerista gli dice adesso voi dovete vivere la morte attraverso l'arte e quindi loro si fanno picchiare o lui si fa affogare cioè fa qualcosa di fisico molto forte o addirittura usa il corpo della figlia ormai morta addirittura come tela per dipingere con rossetto quindi il discorso che Fridu in Titano rientra perfettamente e mi fa anche specie il fatto che ho citato prima il verso di Pasolini gettare il proprio corpo nella lotta che in qualche maniera questa idea di arte corporea si corra in parallelo con un'idea anti-artistica dell'arte o meglio direi anti-sacrale cioè da questa trilogia è chiaro non solo che Chitano e in questo senso la trilogia è ascendente cioè parte da parlare di lui a parlare dell'arte in generale ok nel corso dei film c'è questa generalizzazione all'interno di questi film non solo lui sta in qualche maniera parodizzando il suo stesso cinema e la sua stessa figura iconica ma lui arriva anche a desacralizzare l'idea stessa di arte questo è molto evidente lui in qualche maniera il suo la sua mancanza di rispetto uso questa espressione ma in realtà mancanza di rispetto in senso sì però in senso ironico ok la sua mancanza di rispetto che va da se stesso a Ozu a Matisse e Miro perché attraversano tutti e tre i film in realtà è un modo per dire svegliatevi non sono queste le cose importanti cioè Chitano è uno di quegli artisti che è arrivato a un certo grado di maturità perde completamente fiducia nell'arte è una cosa che non avviene così di frequente ma in alcuni artisti è avvenuta e lui è parecchio evidente questa cosa per cui se lui smette di avere rispetto sacrale quantomeno per l'arte non può che averlo anche per se stesso e in questo senso la trilogia è molto più radicale di tante altre opere anti-artistiche perché lui parte prima di tutto prendendo in giro se stesso che è una cosa che non so perché non è stata minimamente apprezzata capita e il motivo credo poi Paolo mi correggerà il motivo per cui non sono particolarmente apprezzati questi tre film non riesco a capire perché ma in realtà non riesco a capire nemmeno io perché cioè per certi versi forse o si è innescata questa sorta di meccanismo voluto dove Chitano per certi versi vuole che i suoi film non vengano apprezzati per questo la trilogia viene il nome di suicidio artistico o forse non ne ho la più minima idea perché già per esempio Achille e la tartaruga dove tutto il film si basa appunto su questo paradosso matematico su Achille che non raggiungerà mai la tartaruga paradosso che poi viene smentito perché poi per certi versi durante l'arco del film e visto che noi siamo spoiler free lo diciamo e ce ne sbattiamo un po' la ciolla alla fine del film Achille raggiunge per davvero la tartaruga Ma Achille raggiunge la tartaruga però rinunciando questa cosa è ambigua mi rendo conto perché non è così chiaro nel finale però il gesto di buttare all'aria la lattina di Coca-Cola che era l'ultimo l'ultimo baluardo artistico perché poi Achille e la tartaruga fa è un film straordinario secondo me perché in due ore fa tutta la storia dell'arte tutta dal realismo al cubismo all'arte performativa fino ad arrivare alle lattine alla merda di Manzoni a questo genere di cose qui dove lui trova una lattina per strada e la vende a 200.000 yen ok esatto e quando poi oltre a percorre l'idea è quella che in qualche maniera sì Achille ha raggiunto la tartaruga perché ha evitato di inseguire questa ossessiva perfezione che noi attribuiamo all'arte in qualche modo e se poi comunque i segni di questa ossessione che lui ha rincorso per tutta la vita verso l'arte comunque se li porta addosso perché non scordiamoci che comunque lui alla fine del film è completamente fasciato perché stava divincendo un incendio d'albero all'interno di una casa e quindi si è autodeturpato e che per certi versi è una storia dell'arte come dicevi tu ma è anche una storia una storia del cinema in generale ma più del cinema di coloro che fanno il cinema di registi cioè per me Chitano fa quello che Godard fa in tantissimi altri film solo che Chitano forse non ha la la percezione storica che Godard dell'epoca e quindi fa tutto quello che ha fatto Godard in tantissimi film ovvero autoraccontarsi Chitano lo fa in un solo film forse con la concezione di aver virtualistiche diciamola pure ma questo già dal primo film ma questo già dal primo film per certi versi si prende meno il senso anche questo film fantastico che praticamente come dice Rico Chiesi a proposito è un film su l'illudersi di poter vivere senza arte quando poi non è così perché poi i segni di questa ossessione le porterà addosso quindi per certi versi è una kill che ha raggiunto la tartaruga senza che la tartaruga rinunci al suo guscio sì devo dire che messa io non sono molto d'accordo nel leggerla così come ha fatto Ghezzi nel senso che a me invece pare abbastanza netto il giudizio di dovete non addirittura di dire dovete vivere senza l'arte però una cosa del genere cioè dovete smetterla di inseguire questa chimera ossessiva che non ci dà nulla bellissimo il dialogo con giudizio che fa che fa lo street food esatto quello volevo esatto che dice se scegli tra un un picasso e c'è una torre di riso e sei affamato sei sicuro che non scegli il picasso il povero sì esatto è lo studente che dice no 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 io scelgo picasso perché è un altro di quelli che è ossessionato con questa idea sacrale dell'arte sì in un certo senso mi viene da ridere perché mi ricordo la parte di Achille la tartaruga ambientata dentro l'accademia mi ricorda un po' le mie conoscenze dell'accademia di belle arti non dico di quale città perché poi ero tutto privacy no è privacy però che in effetti vivono in questa specie di bolla in cui l'arte è veramente la cosa più importante in assoluto arrivano addirittura nel film a mutilarsi quasi ad ammazzarsi per un qualcosa che in realtà non ha tutta questa importanza cioè Chitano ridimensiona parecchio le aspettative della ridimensiona in un modo intelligentissimo perché come dicevi tu fa ironia su se stesso appunto sulla sua concezione di arte che è molto corporale quindi all'interno di questo meccanismo in cui lui utilizza il suo modo di fare arte quindi è estremamente corporale ed estremamente agonista per certi versi in cui come dicevi tu gli artisti si buttano nella lotta con l'arte utilizza il suo modo per autodisprezzarsi quindi è un meccanismo meccanismo fantastico forse è questo il paradosso di Achille la tartaruga cioè forse in questo meccanismo si crea il paradosso però sai il punto è che la bellezza di questo film sta nei rapporti che ha con gli altri due della trilogia cioè se tu il film lo prendi singolarmente è una critica radicale alle nozioni sacrali di arte anche alle teorie normative perché il gallerista che ogni volta che loro gli portano un quadro dice come dovrebbe essere il quadro e non si limita a dire quello che è il quadro quindi deve lavorare una teoria e loro devono rispettare quella teoria quel concetto sono delle sequenze molto intelligenti quelle e quindi però sarebbe solo questo tra virgolette tra mille virgolette però se tu poi lo metti in correlazione con Takeshi con Glory to the Filmmaker ma soprattutto con Takeshi in cui lui ha impiegato due ore di film per auto-umiliarsi proprio come come figura iconica allora tu capisci che l'operazione che sta facendo in tutta la trilogia è parecchio audace e intelligente cioè quella di dire adesso cominciamo a demolire tutto questo mondo fiabesco che si costruiscono i critici gli spettatori e gli stessi artisti e parto da me il mio discorso va oltre me però io parto da me per una questione di coerenza personale fa questo percorso e quindi mentre in Glory lui distrugge tutta la storia del cinema o quantomeno la sintetizza e sintetizzandola la rende ultra parodistica con delle sequenze veramente geniali il pupazzo con la maglietta di Zidane la matrioska con Hitler e Stalin cioè della roba fuori di testa e arriva alla fine alla distruzione globale di ogni cosa del film in sé anche poi è un momento in cui finzione e realtà si mischia perché poi tutti i personaggi di questi set fittizi vedono tutti questa meteora che arriva esatto sì 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 chiaramente il primo il primo modo per autoparodizzarsi è sempre quello di eliminare la distinzione tra realtà e finzione anche in Takeshi c'è questo anzi addirittura c'è il personaggio di Bit Takeshi mettiamola così che incontra il regista Kitano imbarazzato e loro sono identici hanno solo i capelli di colore diverso nessuno sembra notarlo che è anche una cosa bizzarra ma appunto ripeto il percorso alla fine è filosoficamente molto sottile perché Achille e la tartaruga non è per nulla di da scarico come l'hanno descritto molti ha tanti elementi attesi e tanti elementi che non lo so per cui questo percorso che arriva a queste bette alte in realtà ha delle tappe molto chiare di autodistruzione che sono veramente apprezzabili cioè quale regista che dà nulla da essere un cabarettista perché questo era Kitano e si mette a fare il regista di film noir o di film di Yakuza o Yakuza e somigliare così incredibilmente a Melville senza esserlo esatto senza esserlo e diventa anche un genio nel cinema contemporaneo che poi un giorno si sveglia e dice ma sapete che vi dico che non avete capito un cazzo cioè questo questo genere di coraggio e di audacia vanno ben oltre qualunque considerazione estetica sui film in sé premorestando che sono film molto belli Takeshi in particolare ha delle sequenze di ball a un certo punto che non c'entrano nulla che sono la parte in assoluto più bella del film cioè prendici fai un corto a parte e vai alla grande per certi versi una condizione forse del primo Kitano post 2000 ovvero Kitano è sempre stato un regista che lascia aperte parecchie porte nel quale lui apprende 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 anche dalla tradizione forse dell'arte giapponese perché comunque è un cinema che per certi versi si è sempre basato sulle proprie tradizioni quindi sul teatro kabuki sul manzai sulla maschera e come Kitano fa in Dolce prima in Zatoichi dopo e in Takeshi appunto inserisce queste sequenze completamente kabukkiane per certi versi come l'ultima sequenza di Zatoichi quella del balletto si inserisce fortemente nel contesto di Takeshi che forse è ancora di più una sorta di di canto del cigno per smentire ciò che dice la critica come un canto del cigno per smentire ciò che dice la critica in Glory to the Filmmaker quando cita formalmente il nome di Wenders per pigliarlo in giro per certi versi e ficcarci quel corto chiamamolo corto chiamamolo mini episodio in cui sembra sembra completamente un regista che non è Kitano sembra sembra un corto che richiama Ozuma che è girato fortemente da Oz quindi oltre a richiamare un Kitano incredibilmente dal punto di vista concettuale richiama un Kitano incredibilmente dal punto di vista tecnico che paradossalmente fa il verso con il periodo dell'adolescenza del Kitano protagonista in Achille la tartaruga quando ha di un'incredibile importanza tecnica il compagno di Kitano all'Accademia di Belle Arte dice ma guardate la tecnica serve fino ad un certo punto ormai esistono le fotocopiatrici esistono qualsiasi mezzo possibile la tecnologia ormai è avanzata quindi non ci serve più la mano d'opera l'olio di gomito proprio per riprodurre qualcosa uguale a come sembra ormai la tecnica se non è mischiata all'estero se non è mischiata al concetto non vale più nulla c'è dei cubisti c'è da comunque influenze artistiche che hanno per certi versi ampoliato gli orizzonti tecnici e questo cozza incredibilmente con quello che Kitano fa come dicevo prima nei primi 20 minuti di Gloria to the filmmaker quando gira quell'episodio che secondo me sono forse i 15-20 minuti più belli mai fatti da Kitano dal punto di vista formale che richiama Ojo appunto e dimostra che come dimostra come quel discorso sia completamente calzante perché Kitano nonostante sia uguale ugualissimo ad Ojo in tutti i fattori che costruiscono l'impianto figurativo non risulta essere Ojo allo stesso tempo cioè gli manca quel qualcosa da Ojo e quel discorso poi come dicevo prima lo riporti in Achille e la tartaruga che forse è l'emblema di quel piccolo dei 15-20 fantastici minuti sì perché c'è tutto il discorso anche sull'imitazione che in Achille allora quel pezzo che tu hai detto su lo studente mi pare che dice è inutile riprodurre la realtà nei quadri perché c'è la fotografia rientra proprio in quello che dicevo prima sul fatto che in quel film c'è una piccola storia dell'arte in due ore e lì è molto interessante perché io mi chiedevo durante il film ma questo ragazzino che non ha un minimo di conoscenze artistiche e continua a fare dei disegni dei dipinti realisti prima o poi si scontrerà con la realtà che non funzionano più e quando si scontra con quella realtà quando c'è qualcuno che gli dice guarda che non funzionano più così le cose io lì per lì pensavo ok adesso ci sarà un'evoluzione verso l'astrazione verso e invece no cioè c'è questa evoluzione però viene anch'essa distrutta ok quindi Chitano non sta dicendo che l'arte fatta in quella maniera è migliore di quella precedente il suo discorso è trasversale nessuna delle due è realmente vicina alla realtà come dovrebbe essere e lasciami dire una cosa su Zatoici la sequenza finale di Zatoici è volutamente come si sa cioè come è evidente quando uno vede il film è uno sperleffo al resto del film ok sperleffo che non è stato minimamente capito perché il film fu osannato dalla critica mentre Chitano voleva un po' prenderli per il culo in quegli ultimi minuti no e lui stesso sceglie proprio Zatoici come bersaglio più chiaro da parodizzare in Glory to the Filmmaker cioè quella sequenza dei film del film dei samurai dove c'è anche la voce fuori campo che dice avrebbe potuto fare Zatoici 2 e invece fa questo film che non ha senso che però sarebbe perfettamente in linea con Zatoici 2 quindi in realtà anche lì si smentisce vuole prendere in giro la critica vuole in qualche maniera e mi diverte molto perché il nostro più grande fan Paolo Merghetti nel suo noto dizionario del cinema giudica Zatoici con il pallino quindi con zero se non sbaglio e scrive proprio il film è una voluta presa per il culo e mi sta sulle palle che i critici lo abbiano osannato ok e la cosa è divertente perché lui è l'unico ad averlo capito e avrebbe dovuto osannare il film proprio per questo cioè è quello il paradosso sì sì esatto stavo dicendo che c'è un paradosso è come se la critica fosse destinata a non capire e in qualche maniera il gallerista di Achieve la tartaruga mi sembra che possa essere un simbolo di questa incomprensibilità cioè persone che continuano a voler trovare un di più all'interno di un prodotto artistico e costringono l'artista continuamente a rifarsi in qualche maniera a inseguire ancora questa ossessione totalmente autodistruttiva infatti infatti sì ma anche diciamo in Achieve la tartaruga c'è oltre ad essere una storia dell'arte secondo me Chitano ha dichiarato che questo film è particolarmente autobiografico perché c'è poi un discorso che va sulla sua idea di cinema come dicevamo prima uno per questo paradosso che hai detto tu perché è difficile criticare i suoi film soprattutto dell'ultima fase perché ti crea proprio questo paradosso perché se è volutamente una presa per il culo cosa faccio gli do il massimo gli do il minimo e quant'altro e forse è questa la frase che che è rivelativa di tutto questo meccanismo perché nel momento in cui c'è il mercante d'arte dopo che muoiono comunque i genitori fittizi di Chitano all'interno del film il mercante d'arte dice più grande è il mistero più grande è l'artista forse è proprio qui che si cela tutto diciamo il senso di questa operazione di questa di questa trilogia perché poi nei film nei film successivi cioè nella trilogia di Outrage c'è comunque questa uno c'è il mercante d'arte vero e proprio che nella vita reale in realtà è il produttore gli obbliga di andare avanti perché l'ultima trilogia quella di Outrage è palesemente una trilogia non voluta è un Chitano forse un po' più sbogliato per certi versi ma è un Chitano che non smette di voler cercare dei modi per divertirsi sul set infatti tutte le scene di tortura in Outrage sono per certi versi collegabili alle scene di creazione artistica in Achille la tartaruga per esempio in Outrage Biondo Coda però mi pare fosse Biondo non ricordo esattamente in cui uccide uno sgherro mettendolo seduto su una sedia lo lega e davanti gli si piazza una sparapalle da baseball quelle che usano i giocatori per allenarsi lo lascia morire lì fin quanto fino a che le palline non gli fragassano completamente il crane quindi per certi versi c'è comunque questa volontà di inserire il ludico di inserire il corpo all'interno di un processo artistico che è poi il cinema tutto sì però io credo che questo paradosso incredibile che ha creato Kitano renda difficile in realtà anche per noi parlare di queste cose nel senso che ho sempre l'idea che leggendo in questa maniera come hai fatto tu come sto facendo anche io la sua filmografia anche questa idea che la trilogia Outrage che è un po' ritorno a un cinema di genere puro diciamo così senza bellità artistiche che però involontariamente ce le ha non puoi evitare in qualche maniera di fare arte comunque però qualunque discorso in qualche maniera si azzera perché ho sempre l'impressione che lui ci abbia voluto dire nella trilogia che dobbiamo smettere di fare letture esageratamente complesse di qualcosa che è solo la ricerca di un'ossessione totalmente inutile e quindi poi quando ti metti in difficoltà perché tu leggi sui film anche la trilogia nella maniera giusta ed è comunque una lettura capito più complessa di quello che lui vorrebbe che tu prendessi il quadro e dicessi bello e poi lo butti via perché c'è altra roba da fare questa è la mia idea però non puoi non puoi farlo se devi leggere questa idea nei suoi film capito cioè si crea questo cortocircuito incredibile ha fatto ma poi tra l'altro c'è quello che hai detto tu per certi versi è ipercalzante ma forse è centrale nel discorso dello special di oggi proprio durante l'uscita di Takeshi ci fu un'intervista di Chitano al Corriere della Sera dove parecchi critici si indispettivano un po' ma in realtà lui mostrò profondo rispetto per Godard e Fellini perché durante quell'intervista lui in soldoni non ve la riporto tutta perché sarebbe un po' neoso e disse in soldoni guarda guardate i film di Godard e di Fellini sono incredibili però io purtroppo non riesco a capirli ovviamente non è così perché nei suoi film c'è parecchio Fellini e c'è parecchio Godard però lui disse io non riesco a capirli i miei film sono semplici film e basta basta solo guardarli si fanno leggere da soli quindi è come se per certi versi tu avessi sintetizzato quell'intervista perché per certi versi a volte è anche vero il lavoro della critica forse è proprio quello quello di fare dei voli pindarici di costruire letture in più di scavare all'interno dell'inconscio del testo è tutto figlio è tutto figlio di quella concezione sacrale dell'arte che lui prende in giro in questi film però il punto è che lui lo sa che sta giocando sporco in una certa maniera però è inevitabile cioè nel corso se tu prendi tutto il cinema ok del novecento e anche oltre è pieno di film in cui i registi riflettono su loro stessi da Otto e Mezzo a Stardust Memories anche anche Sogni d'oro di Nanni Moretti che ne so è pieno di questo genere di film e questo genere di film che sono in alcuni casi volutamente anti-artistici ok soprattutto quegli autori che arrivano come Chitano a una concezione quasi di disprezzo nei confronti dell'arte un pochino un altro è Woody Allen che nel corso della sua carriera ha avuto questa questa deriva filosofica e però il fatto è che questo genere di autori non riesce comunque a giocare in modo coerente perché nel momento in cui tu fai un prodotto che parla di morte dell'arte un prodotto completamente autoreferenziale eccetera eccetera partono automatici tutti questi discorsi che abbiamo fatto noi adesso per cui Chitano fa una richiesta impossibile e che era la richiesta di tanti altri io ho citato all'inizio Pasolini era un altro che diceva a un certo punto smettetela di leggere oltre le righe io voglio scrivere in modo che quello che scrivo sia direttamente la realtà senza sovrainterpretazioni e questo però è impossibile lui passa gli ultimi anni dietro a questa frustrazione assolutamente inconcepibile e Chitano ha la stessa cosa va in un'intervista e dice ragazzi i miei film sono solo semplici film e non è vero lo puoi dire in tutti i modi possibili all'interno di un film meta artistico però stai facendo un'operazione complessa per cui capisci il discorso è presente il paradosso che si crea sempre quando tu vuoi parlare male dell'arte dentro l'arte è l'Achille e la tartaruga in ogni caso e in questo caso Achille non raggiungerà mai la tartaruga sì esatto in quel senso sì perché infatti è duplice il significato da un lato Achille non raggiunge la tartaruga è inteso come Achille non raggiunge mai quella idea di arte pura che sta inseguendo quell'idea sacra e il dubbio di Chitano è ma forse perché quell'idea non esiste ok e quindi mi sto sprecando senza motivo dall'altro è anche il significato che abbiamo detto adesso cioè Achille in qualche maniera vorrebbe inseguire un'idea invece totalmente anti-artistica di quello che sta facendo però si contraddice solamente facendo il gesto di di fare arte così come il gesto di fare poesia in Majakowski un sacco di autori si possono citare è impossibile uscire fuori da questo gesto è come è come il famoso paradosso della comunicazione tu non puoi non comunicare se tu stai zitto perché vuoi evitare di comunicare stai comunicando di non voler comunicare non è è proprio in questo senso veramente questi film sono la sintesi di che cos'è dell'arte e di che cosa cioè qualunque regista o artista dovrebbe riguardarseli e sapere a cosa va incontro quando inizia a fare questo genere di mestiere va incontro alla follia molto probabilmente o alla frustrazione sì ma o appunto nel caso di Chitano all'autodistruzione esatto sì 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 è un metodo più artistico per mettere il punto fine anche anzi nel caso di Chitano forse mettere una virgola alla parola fine perché non credo non credo sarà finita qui anche perché poi come dicevamo prima Outrage è per certi versi un continuo della della trilogia del suicidio artistico anche se poi ancora ora fatico a capire perché questo nome cioè il motivo è chiaro sicuramente ma della lettura che ne abbiamo dati ne abbiamo dato entrambi ai tre film cioè la forse la parola trilogia artistica trilogia del suicidio artistico scusate risulta ancora un po' misteriosa ancora un po' ambigua ma no ha tanti significati no innanzitutto ci sono ci sono i suicidi dentro questi film la figura del suicidio che nella cultura giapponese insomma il cinema di Kitano in generale c'è quasi sempre un suicidio a film c'è un discorso complesso da fare sul suicidio in Giappone c'è io credo che sia la lettura la più superficiale cioè quella che sia un giudizio di Kitano sui suoi stessi film cioè che questi tre film devono essere volutamente odiati credo che sia la spiegazione migliore però è chiaro che non è solo questo perché lui comunque nei tre film si potrebbe guardare si potrebbe leggerlo in un'altra maniera grammaticale però certo è una lettura legata alla grammatica italiana e non a quella giapponese forse il suicidio artistico è inteso proprio come il suicidio dell'arte in qualche maniera lui uccide l'arte in questi tre film anche fisicamente quadri calpestati set che esplodono la sua stessa immagine che viene che in Takeshi se è lui l'arte è lui il prodotto una delle cose belle di quel film è che rispecchia l'idea che io sempre ho avuto e l'ho detto anche qua varie volte che il cinema è un'arte performativa è come se fosse una performance soprattutto se sei un regista attore e Takeshi si è molto in questa idea Senta che esce se che in Achille la tartaruga esce per certi versi il lato da Marina Abramovic che nasconde che nasconde Takeshi Kitano si si che in realtà è tipico di molti registi cioè soprattutto ripeto i registi che si auto rappresentano è un grande classico fa parte anche di certo cinema americano quindi insomma è una cosa abbastanza diffusa questa idea che in un certo senso il cinema potrebbe essere considerata un'arte performativa e infatti moltissimi anche artisti performer sono poi giunti a fare videoarte qualcosa quindi di molto vicino a un caso